Chiamerei subito il prossimo relatore, Marcello Comanducci, un applauso. Marcello di E-Simple che oltre a fare la relazione che adesso ci appassionerà è anche un nostro partner sul progetto del festival, con lui abbiamo fatto un esperimento di immersività, permettimi la definizione, far vivere in termini virtuali ma in modo più immersivo quello che è un'esperienza da remoto se possiamo così dire. Il bello di sperimentare è che si impara e si migliora, il bello di sperimentare è che nel mondo digitale non si consolida mai nulla, per cui se vi capiterà poi nei prossimi giorni di navigare online in quella sezione diteci cosa ne pensate, speriamo di aver tracciato una strada. A te la parola, grazie. Buongiorno a tutti, sono Marcello Comanducci di E-Simple, co-founder. E-Simple è un'azienda che è nata nel 2007 con l'obiettivo di creare un team di sviluppo per realizzare tutti i prodotti altamente innovativi per le aziende. Nel 2008 siamo stati i primi al mondo a utilizzare tecnologia 3D immersiva nell'utilizzo dell'e-commerce creando il primo centro commerciale che poteva essere navigato sia in modo tradizionale, quindi gli utenti potevano comprare i prodotti reali in un sito di e-commerce web oppure immergersi in una realtà completamente 3D e dialogare con le persone all'interno del mall. Oggi il sistema è in licenza al ministero delle telecomunicazioni turche. Nel 2011 abbiamo utilizzato sempre tecnologia 3D per la realizzazione di un configuratore per il brand Natuzzi. Questo configuratore oggi è utilizzato in molteplici negozi del brand e sta portando dei risultati incredibili, si parla di quasi il 20% di aumento di vendite dove viene realmente utilizzato. Oltre a questo sviluppiamo Advert Game, sviluppiamo Mobile per tutta una serie di brand, spesso in collaborazione con agenzie di comunicazione di cui diamo supporto. Oggi parliamo di Social Customer Analytics, ovvero come acquisire dati e comportamenti degli utenti in modo innovativo, quindi parallelamente a quella che è la Customer Analytics tradizionale. Facendo un piccolo panorama su quelli che sono i trend di mercato parleremo appunto di Customer Analytics, del mercato mobile e della crescita di Facebook. Per Customer Analytics intendiamo tutte quelle azioni che le aziende possono fare per acquisire dati e comportamenti dai propri utenti da utilizzare poi nelle decisioni aziendali. Le ultime ricerche dimostrano che una formula molto semplice, più il brand conosce i propri clienti e più questi sono soddisfatti del prodotto. Sembra una cosa banale ma spesso le aziende non investono in questo tipo di ricerche. La Customer Analytics nei prossimi 5 anni avrà un incremento di quasi il 300% in investimenti aziendali proprio per l'importanza che sta dimostrando. Riguardo al mercato mobile ormai è sotto gli occhi di tutti che è un mercato in grossissima crescita, si parla di più di un miliardo di smartphone attualmente nel mercato ma soprattutto le statistiche dicono che viene utilizzato lo smartphone per quasi 3 ore al giorno. Per socializzare in questo caso sono dati che sono a 360 gradi quindi non riguardano solo i social network ma proprio ci danno una panoramica di quanto comunque questo accessorio è nelle mani degli utenti. È molto importante e non possiamo dimenticare parlando di mobile il settore dei videogiochi. Oggi più del 60% degli utilizzatori di uno smartphone è un videogamer e lo fa per 15 ore al mese e spesso lo fa tutti i giorni quindi sicuramente è un'attività molto molto importante. Riguardo a Facebook ormai sono numeri che ovviamente non ci stupiscono, ha superato il miliardo di utenti mensili, quasi il 44% degli utenti di internet quindi che si connettono alla rete oggi ha un account di Facebook. Abbiamo una media utente di circa 230 amici quindi questo ci fa capire come è possibile viralizzare tramite questi strumenti perché ovviamente è molto semplice raggiungere un largo numero di utenti. E soprattutto viene utilizzato per tantissimo, per quasi un'ora al giorno quindi comunque gli utenti lo usano moltissimo. Prendiamo in esame quello che oggi sono le difficoltà del settore. Sicuramente è molto difficile oggi riuscire, gli utenti sono poco disponibili a rispondere alle domande quindi questo ci crea grossi problemi nella customer analytics, chiamiamola analogica, perché spesso gli utenti sono sempre meno portati a collaborare. Di contro per avere dei risultati poi utili per le aziende quindi per poter poi prendere le decisioni aziendali importanti, questi dati sono molti, bisogna fare molte domande e ricevere molte risposte. Quindi spesso anche la customer analytics digitale è di fronte magari a un form di otto pagine, gli utenti tendono poi a chiudere e non collaborare. Ovviamente poi per non parlare dei costi alti e soprattutto dei tempi lunghi per processare le informazioni, se si parla poi di quelle analogiche ancora di più. Cosa chiede il mercato? Il mercato chiede di poter utilizzare tutti i miliardi di informazioni che oggi sono su Facebook e quindi sono informazioni che già ci sono, sono lì alla portata delle aziende. Acquisire questi feedback però in modo nuovo, innovativo, meno invasivo di quello che siamo abituati a fare fino ad oggi. E soprattutto puoi poter analizzare e utilizzare questi dati in modo semplice, visuale, grafico, perché non tutti poi riescono a capire e a accorpare questi dati per poi renderli utili alla propria azienda. Quello che noi oggi proponiamo è l'utilizzo di applicazioni corporate o advergame, quindi giochi aziendali, che tramite il login di Facebook, quindi il Facebook login e dei algoritmi che sono nel mercato, noi siamo partner di due aziende, una italiana e una di San Francisco, riescono in modo quasi automatico a raccogliere tutti i dati degli utenti che si sono connessi su Facebook e quindi che stanno utilizzando i nostri strumenti e da qui poi parte l'analisi e le elaborazioni, come vedremo in un secondo momento. Per Enterprise App noi intendiamo tutte quelle applicazioni aziendali che vengono sviluppate da un lato per accrescere la brand awareness del marchio, dal lato per creare delle vere e proprie applicazioni che possono informare o fornire dei servizi aggiuntivi ai propri clienti. Tantissime sono le aziende che oggi sfruttano questo canale comunicativo con successo sia in Italia che all'estero. Per quanto riguarda invece il corporate advert game, advert game è la crasi delle parole advertising e videogame, ovvero l'utilizzo delle logiche dei videogiochi in tutto e per tutto per comunicare messaggi pubblicitari, per comunicare la filosofia di un brand in modo non convenzionale. E anche in questo caso sono molte le aziende che sul mercato negli ultimi anni hanno utilizzato i videogiochi per andare, come abbiamo detto ora, comunque ad attaccare un mercato sicuramente grandissimo e che al momento è molto utilizzabile. La domanda quindi che ci chiediamo è perché utilizzare applicazioni ai giochi per fare customer analytics? Sono due mondi che apparentemente sembrano molto lontani tra di loro. Principalmente perché gli utenti sono abituati ad utilizzare il Facebook login, in parte per i giochi e in parte per le applicazioni, quindi è un ottimo link per andare ad accedere ai dati che oggi sono su Facebook. Secondo perché, come abbiamo detto ora, sono divertenti e coinvolgenti, quindi è molto importante che la comunicazione arriva direttamente dal cliente che magari scarica il gioco o l'applicazione perché è consigliato da un amico, quindi è molto meno invasiva, è molto più virale. L'utente la utilizza perché in realtà ne ha un beneficio. Magari probabilmente non hanno una grande durata, i giochi possono essere chiusi velocemente, però viene fatto tutto in modo naturale. E terzo perché ci permettono di avere dei feedback, che ora vedremo in particolare, dai nostri clienti in modo non invasivo, quasi automatico. Vediamo come. Lo svolgimento si muove su sei fasi. La prima ovviamente è quella di coinvolgere i propri utenti, quindi è molto importante che queste applicazioni o questi videogiochi comunque siano divertenti. L'utente tramite Facebook login accetta i permessi dell'applicazione, quindi accetta che si possono comunque andare ad acquisire i dati dei nostri utenti. Degli algoritmi innovativi riescono ad analizzare tutta la mole dei dati, permettono di segmentarla, quindi di creare dei gruppi di utenti e infine di fare azioni di marketing mirate in pochi e semplici click. I dati che si possono acquisire tramite questi sistemi sono infiniti. Tramite Facebook login possiamo andare ad accedere a tutte le informazioni personali degli utenti, quindi i nomi, cognomi, foto, se una persona è sposata, se ha figli, dove abita. Cosa molto importante, possiamo andare anche ad accedere a tutti quelli che sono gli interessi, quindi i like che questo utente ha fatto su Facebook. Quindi per noi è molto utile sapere se un nostro utilizzatore magari gli piace anche un nostro concorrente, oppure se ha determinati interessi di musica, di sport e di quant'altro. Ovviamente tramite il GPS possiamo sapere anche i luoghi più frequentati, quindi se questi utenti di dove sono e soprattutto che luoghi frequentano. aggiunto a tutti i dati di Facebook possiamo andare ad inserire all'interno delle nostre applicazioni anche tutta una serie di informazioni aggiuntive che sono specifiche per il brand e per l'azienda, quindi che vanno oltre alle informazioni che vengono trovate su Facebook. Facendo un esempio molto pratico, abbiamo pensato per esempio ad un'azienda di cosmetici che vuole analizzare il comportamento all'interno dei negozi della propria clientela per capire i movimenti, per capire quali sono i prodotti più visti, quelli più piaciuti. L'idea alla base è quella di realizzare un'applicazione in realtà aumentata che funga da shopping assistant. Quindi l'utente una volta che lancia l'applicazione si connette con il Facebook login, accetta i permessi, tramite la funzione di personal shopper può in store cercare il prodotto che più gli interessa, il sistema lo riconosce e fornisce tutta una serie di descrizioni aggiuntive, video e consigli. L'utente può ovviamente aggiungere il prodotto in wishlist direttamente in negozio. Affiancato a questo è possibile per esempio realizzare un semplice quiz che può consigliare il prodotto, quindi in questo caso si chiede all'utente il tipo di pelle, il colore degli occhi e quant'altro. Il sistema fornisce un servizio perché comunque fornisce al cliente una serie di prodotti che sono in linea con le proprie esigenze. Se andiamo poi a vedere il reale funzionamento, quello che ci interessa più per la social customer analytics, l'utente nel momento in cui si connette a Facebook, noi siamo in grado di recuperare tutti i dati personali. Nel momento in cui l'utente utilizza questa applicazione in store, quindi la utilizza sui prodotti reali, siamo in grado di visualizzare e memorizzare tutti gli oggetti favoriti e non solo ma anche i negozi più utilizzati in quanto possiamo sfruttare anche il GPS che c'è negli smartphone. Infine quello che in realtà è un quiz che serve per aiutare il consumatore, e per noi è un sistema per fare analytics molto in profondità, quindi in questo caso l'azienda di cosmetici avrà tutta una serie di statistiche su quelle che sono le tipologie di pelle e i colori degli occhi delle proprie utenti. Alla fine abbiamo fatto una sorta di sondaggio subliminale, nel senso che non abbiamo assolutamente chiesto niente all'utente, ma abbiamo comunque tracciato tutto il comportamento dell'utente all'interno del negozio e abbiamo in mano una molle di dati che può essere facilmente utilizzata all'interno dell'azienda. Un esempio invece di quello che è un adver game, abbiamo pensato a un'azienda di abbigliamento sportivo che vuole conoscere i gusti degli utenti, ma lo vuole fare in modo innovativo, quindi realizza un gioco di sport per acquisire queste informazioni. Con la stessa logica di prima, l'azienda sviluppa un videogioco che tramite il Facebook login è possibile sfidare gli amici, l'utente viene posto di fronte a delle domande, quindi la scelta della tipologia di racchetta, la personalizzazione per esempio di un avatar in 3D con abbigliamento reale, fino ovviamente alla sfida degli amici che serve anche per viralizzare l'applicazione. Il gioco che possiamo realizzare ovviamente dipende poi a livello qualitativo e visivo da quello che ci chiede l'azienda, può essere molto semplice o molto complesso. Cosa importante, che noi oggi parliamo di mobile, ma questo tipo di soluzioni può essere anche cross platform, quindi oltre che essere sviluppato e inserito nei principali store, quindi iOS e Android, può essere anche sviluppato sotto forma di web game, quindi può essere inserito sia dentro Facebook, sia direttamente nel sito corporate dell'azienda. In questo modo le informazioni hanno un ulteriore plus, perché raccogliamo non soltanto tutte le informazioni dei nostri clienti, ma sappiamo anche quali sono i mercati che funzionano di più. Quindi con la stessa logica di quello che abbiamo visto prima, l'utente tramite Facebook login acquisiamo i dati, tramite tutta una richiesta durante il gioco acquisiamo delle caratteristiche specifiche, in questo caso possiamo anche addirittura arrivare a pensare di creare delle racchette che cambiano, per esempio sono più da velocità, da fondo, da rete, per avere comunque anche informazioni poi reali di quello che può essere il prodotto. Stessa cosa vale per l'abbigliamento dell'avatar, quindi vedremo se gli utenti vestono il proprio avatar più con maglie rosa, bianche o quello che sia. Alla fine abbiamo fatto come prima uno studio subliminale, nel senso che non abbiamo chiesto niente ai nostri utenti, li abbiamo comunque tracciati e abbiamo tutta una serie di dati molto importanti da poter utilizzare poi in azienda. Alla fine cosa possiamo fare di tutte queste informazioni che siamo riusciti a recuperare? Prima di tutti siamo in grado di capire qual è il nostro utente tipo, cioè quale è all'interno di tutte le migliaia di utenti che hanno giocato alle nostre applicazioni, capire da dove vengono gli anni, cosa gli piace e tutto il resto come abbiamo visto prima. Quindi iniziamo a conoscere, come abbiamo visto all'inizio, molto più i nostri clienti. E secondo, possiamo andare a fare azioni di marketing e segmentare i nostri utenti in modo molto semplice. E questa è sicuramente la seconda novità di questo tipo di soluzioni, perché tramite un semplice pannello di controllo è possibile accedere e iniziare a impostare dei filtri che ci permettono di arrivare poi a un target. Quindi per esempio potremmo richiedere solo utenti uomini di New York in una certa fascia d'età con determinati interessi e la cosa che per chi è in questo settore da molti anni stupisce è che alla fine noi vediamo le facce dei nostri utenti, cosa che fino ad oggi in internet non è mai stato possibile, perché al di là dei dati che provengono da Google, noi non possiamo fisicamente vedere chi ha, è proprio la prerogativa di internet. In questo caso noi andiamo proprio a vedere le singole persone che rientrano nel nostro profilo. A questo punto possiamo andare a fare azioni di marketing di qualsiasi genere, che siano email, che siano web marketing e quant'altro. Quindi tutti questi dati possono essere, come abbiamo detto ora, utilizzati principalmente dal reparto marketing delle aziende, ma possono anche essere utilizzati comunque per capire quali sono i flussi del mercato, i nuovi trend e quindi utilizzarlo magari in nuovi prodotti che usciranno nel mercato prossimamente. Ovviamente poi questo può aiutare anche per le relazioni verso i clienti, in quanto li conosciamo meglio e sappiamo cosa vogliono. Qualsiasi informazione mi potete comunicare tramite email. Grazie. Grazie, grazie Marcello. Grazie.